Senti, noi abbiamo pensato che un periodo di riposo ti farebbe bene. Troppe emozioni, troppe confusioni nella tua povera testolina. Agli ordini, cosa devo fare? Abbiamo trovato una casa di cura, non proprio in Svizzera, ma vicino al confine. Ti troverai benissimo. E dalle parti di Varese c'è un bel parco, a te piace tanto la natura. Paghiamo tutto noi. Sei contento? Contentissimo. Quando si parte? Subito. Ti accompagna Don Gaetano. Va bene. Grazie. Grazie. Grazie.